Ancora Vincenzo Candelà, alla sul secondo palo, schiaccia Emerson, ancora Emerson, rete, lo ha in vantaggio, Emerson! Emerson deve giocare più avanti, deve convincersi, e lì ma giocando dietro gli è da supporto, e andando a rete, andando in zona con, diventa sempre più realizzatore. Non a rete in Serie A per Emerson, ma nella zona centrale è molto attenta. Ancora la Roma in possesso palla, attenzione a Cassano, avanza Cassano, si allarga leggermente Candelà, riceve in questo momento il pallone, Candelà, 2-0! Vincenzo Candelà, raggo più della Roma, al 34esimo. L'ultimi tempi non avevamo visto come l'anno scorso, invece adesso sta ritornando veramente in forma, tornando in forma Candelà da una parte, Caputo all'altra, veramente questa è una Roma molto ma molto forte, validissima. Ha fatto un gol Candelà con tutta la grinta possibile e immaginabile, con una voglia veramente... Enna, recuperata da Cappellini, ancora in verticale verso Di Natale, c'è la buona guarda di Samuella, quindi arriva Candelà, attenzione Di Natale! E' rete! 2-1, non trattiene Antognoli, si riapre la partita. Si vedi, è venuto dall'inizio della gara, fino ad oggi, è quello più pericoloso di tutti, passa che impagni un secondo, passa che gli sbucci una palla, e lui è sempre lì pronto, come un falco. Ripeto, tra l'altro, le amici d'ascolto di restare ancora con noi per le interviste. Attenzione a Battistuta, 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 entrinare Battistuta, pallone su Berti, Montella, ancora Berti, pallone ancora in gioco, Tommasi, è andata la terza rete, si chiude la partita, Roma 3-Empoli 1. Ecco qua che rivediamo l'azione, la grande progressione di Battistuta, arriva un po' stanco al momento del tiro, non riesce a alzare il pallone, respinge Berti che respinge anche su Montella con i pugni, e quindi dal limite dell'area di rigore è Tommasi che mette in porta, 3-1, allora terza vittoria consecutiva della Roma in campionato per l'Empoli, invece la seconda sconfitta in casa. Vittoria.